I vigili del fuoco del distaccamento di Clusone sono intervenuti nei pressi di Ludrigno e di Ardesio per spegnere un incendio a Sterpaglie che ha interessato un versante. Intorno alle 14 un passante ha notato il fumo sollevarsi in cielo e ha chiamato il 115. I pompieri con le lance hanno presto spento il ruolo.